Osterie alla sosta del buttero a Castiglione della Pescaia, un angolo di maremma dove poter gustare la genuina cucina tradizionale, piatti semplici e gustosi, materie prime di ottima qualità che vi porteranno alla memoria profumi e sapori antichi. La pasta fatta in casa, la carne alla griglia e i dolci casalinghi sono solo alcune delle nostre proposte. L'osteria alla sosta del buttero si trova incorniciata in un contesto magico all'interno del maneggio La Bandita a Castiglione della Pescaia sulla strada provinciale del Padule. Grazie La sosta del buttero al maneggio La Bandita, un ambiente familiare accogliente dove poter ospitare i vostri cavalli per brevi e lunghi periodi, dove poter prendere lezioni di equitazione di base in monta inglese e in monta tradizionale maremmana. Il maneggio organizza inoltre favolosi trekking sia nell'entroterra che nella bellissima spiaggia, utilizzando cavalli maremmani e la tradizionale sella scafarda. Se realizzano inoltre spettacoli tradizionali equestri ed eventi su richiesta, non esitate a contattarci per informazioni e preventivi personalizzati. Venite a trovarci a Castiglione della Pescaia, sulla strada provinciale del Padule. Qui Luca vi accoglierà con tutta la simpatia ed il calore tipici della nostra terra. Grazie. 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 Grazie.